E questo è giovedì 31 ottobre, eccolo qui, ma con l'ultimo giorno di ottobre, 30 settembre sugli immobili che non sono utilizzati. I magistrati sostengono che molti dei beni acquisiti dal Consorzio Sole, deputato alla loro gestione, siano inutilizzabili perché mal ridotti. In un caso addirittura si tratta di ruderi, eppure sono stati inseriti nel patrimonio immobiliare del Consorzio. La Guardia di Finanza ha già acquisito i primi documenti per cercare di comprendere se ci siano stati o meno i controlli da parte dei dirigenti del Consorzio. Il gruppo del Tribunale di Napoli ha condannato a 8 anni l'ex sindaco di centrosinistra di Orta di Atella, Angelo Brancaccio. Il PM Luigi Landolfi aveva chiesto 12 anni di declusione in fase di requisitoria. Brancaccio era accusato di aver avuto rapporti con il clan De Casalesi e De Mallardo, e da questi avrebbe ottenuto appoggio alle elezioni amministrative e per le speculazioni edilizie. Per questo l'ex sindaco fu attestato il 13 giugno scorso per associazione a delinquere di stampo mafioso. Brancaccio per i giudici è stato appoggiato e voluto dal clan De Casalesi e De Mallardo alle elezioni amministrative. Grazie all'ex sindaco i clan hanno compiuto a Orta di Atella una speculazione edilizia su un'area pari all'80% del territorio attraverso il rilascio di permessi a costruire illegittimi in assenza dei PUC a società di conducibili al referente del clan De Casalesi sul territorio Giuseppe Russo detto padrino e ai Mallardo con il boss Feliciano e Giuseppe Mallardo. I carabinieri indagano su quanto è accaduto negli scavi di Pompei. È stata infatti danneggiata una piccola porzione di una fresco in Madomus chiusa al pubblico. Il direttore del sito archeologico Massimo Sanna e la responsabile degli scavi Greta Stefania hanno già presentato una denuncia per atti vandalici. Un custode ieri pomeriggio ha segnalato alla direzione un atto vandalico in Madomus chiuso al pubblico nella Regio 9, insula 5. Nel sopralluogo dei tecnici del parco archeologico è emerso il danneggiamento di una porzione di circa 10 centimetri di un quadretto raffigurante Bacco e Arianna. La direzione degli scavi di Pompei ha mobilitato i propri restauratori per avviare le procedure di recupero e restauro e si è augurata che vengano presto identificati i responsabili. Un senzapetto di origini straniere è stato trovato morto in strada questa mattina in via San Giovanni a Campo a Giuliano. Sul posto del ritrovamento del cadavere si sono decati i cadabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini. Il corpo non presenta ferite e il decesso potrebbe essere stato causato da un malore o dal freddo intenso della notte. Una donna con i suoi due figli e gli inquilini dell'ultimo piano di uno stabile sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco in seguito a un incendio sviluppatosi durante la notte in uno stabile di Foglia Nise in provincia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione a causare l'incendio sarebbe stato un cortocircuito all'impianto elettrico. L'automobilista più multato d'Italia dell'anno è un sessantenne di Sarno, al momento anche irrintracciabile. L'uomo ha collezionato quasi 50 contravvenzioni e diverse migliaia di euro di multe combinate da diversi comuni e province d'Italia, compreso il mancato pagamento del pedaggio autostradale. Non a caso con tutte queste multe da pagare l'uomo è attualmente irrintracciabile, dunque non è stato possibile notificare gli atti giudiziari. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per la cortesia attenzione. È giuvedì 31. Grazie. Grazie.